desktop minore di spend class uguale notification barra spangazzetta c'è rix link copia embedo copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi chiudendo questo messaggio scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento a consenti all'uso dei cookie per le finalità indicate per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui.accetto security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone see the facebook help center for more information ciao